mentre Edo gioca con la scatola io vedo di farvi vedere che cosa mi è arrivato queste sono le salviettine che di solito prendo le mie preferite sono queste qui perché intanto la profumazione mi piace tantissimo e hanno la chiusura salva freschezza più ermetica rispetto a questa qui le salviette sono senza parabeni, senza peg non contengono alcol sono imbevute nel latte ci sono anche le salviettine per le pelli sensibili gli immancabili pannolini ho ordinato la taglia 4 ma stiamo offrendo anche quelli della taglia 3 dai 5-9 kg Edo è quasi 8 kg quindi per quello ho già preso questi qua ma li stiamo già utilizzando, li vanno benissimo i pannolini sono analergici, testati dermatologicamente non sono sbiancati col clore, sono senza lattici vi metto qua tutte le indicazioni sia le salviettine che i pannolini happy che anche tutti i prodotti love questo qui era un ciuccetto ed ho utilizzato pochissimo e quindi